Ciao Caffè, ogni momento è buono. Ma se è vero che il gatto cammina gatton gattoni, ma come cavolo camminerai tuoi ombre? Se ridi, ti passa. La sai l'ultima, dal 13 febbraio, la domenica, si ride su Canale 5. Travis Leman sta dando la caccia all'uomo, anche se questa volta è una donna. Bella ragazzi. Sì, è vero, è molto bella per essere un omicida. Tommy Lee Jones, Ashley Judd, colpevole di innocenza. Gizio, che dici? Portano ritardo. Sarà arrivante, genna. Li sento. Ah, pausa a merenda? Era ora. Kinder cereali? Io vado pazzo per Kinder cereali. E' la natura che chiama, genna. Ma no, grattenaglia, ciccio. Io li distraggo. E io li afferro. Eh no. Scusate, Ranger, riuscite a immaginare? Cereali tostati in un mare di latte, tutti sotto al soccolato. Kinder cereali, ricco di natura, ricco di bontà. Andala a prendere. Domani è un altro giorno. Nuovo Chief Oxigel, tutta la forza di milioni di micro bollicine di ossigeno, che aiutano a sollevare anche lo sporco più difficile. Nuovo Chief Oxigel, la purezza unica dell'ossigeno attivo. Buongiorno, Ingegner Brown. La sua missione è progettare un'auto di dimensioni compatte, con interni tanto flessibili da passare da due a sette posti in quindici secondi, senza dover togliere i sedili. Buona fortuna, Ingegner Brown. Impossibile. O quasi. Nasce Opel Zafira, l'unica auto con dentro una monovolume. Ci mangiamo qualcosa? Non è mica che andiamo in pedane con la zavorra. Guarda bene. È duplo. Una goduria di cioccolato che però ti fa sentire leggera. Spettacolo. Ehi, non vale colpire alla gola. Duplo, gusto sempre in forma. Lo sai perché Susanna è così buona? Perché? Lei vive in un posto magico, con le nuvole di panna e l'ago di latte. Pitupitù. Come si pescano dei formaggini buonissimi. Io non so pescare. Io sì. Susanna, la bontà che fa. Pitupitù. La sai l'ultima su Mocio Vileda? Cosa? È diventato Super Mocio. La parte blu è in microfibra Vileda. È super pulente, anche sullo sporco più ostinato. Super Mocio Vileda. Pulito più profondo, senza fatica. Vuoi tu un microonde ventilato a multifunzione? Che? Vuoi tu un frigorifero con congelatore? No, Frost? Ma che dice? Non lo so. L'avete fatta la lista nozze da Troni? No. Chi fa la lista nozze da Troni trova tutte le migliori marche e tutti i servizi offerti dalla catena italiana di elettrodomestici. Troni. Non ci sono paragoni. Nutriente. Golosa. Nutriente. Al cacao. L'ora di merenda rischia di essere un braccio di ferro tra mamma e ragazzi. Per fortuna c'è Kinder Delice. Ma così non vale. Kinder Delice. L'equilibrio giusto tra nutrimento e gusto. Rido e rido. Gross. Grazie a tutti.